Avvocato D'Angelo, lei rappresenta la signora di Cianciana che ha subito le coltellate dal marito e di minori anche loro feriti. Anzitutto, qual è il suo stato d'animo da genitore e da professionista? Guardi, è una storia molto particolare. La signora Drusiuk e i bambini hanno vissuto un momento tragico che ricorderanno per tutta la vita. Da genitore e da padre, prima di tutto, ho lasciato il tempo alla signora di somatizzare, di comprendere quello che le era accaduto. Devo dire, ho trovato una donna forte e intelligente e che ha capito subito che doveva dedicarsi ai figli ed è quello che sta facendo. Da poco abbiamo iniziato a parlare di quello che sarà il processo e su questo posso dire che la signora è determinata a dare il proprio contributo affinché si accerti la verità e affinché venga fatta giustizia sia per lei che per i figli. Quando lei dice che la signora è determinata, quindi anche con una Costituzione di parte civile nei confronti del marito? Assolutamente sì. Il codice ci dà l'opportunità di partecipare al processo attivamente ed è lì che tenteremo di dare il nostro contributo, di dare il giusto impulso anche alle indagini in questo momento a fianco della Procura che, devo dire, ha fatto un lavoro eccezionale insieme alle forze dell'ordine al 118. Quel giorno hanno operato tutti in una maniera veramente perfetta, salvando, devo dire, la vita alla bambina e anche, devo dire, all'indagato, perché hanno operato in una maniera veramente professionale sia i carabinieri di Cianciana che quelli di Cammarata, il 118, quindi da questo punto di vista devo dire che le indagini hanno da subito, si sono subito incanalate nella giusta direzione, insomma, per accertare la verità. Senta, Avvocato, lei da tecnico cosa pensa di come si sta evolvendo sul piano giuridico la vicenda proprio con questa richiesta della perizia per stabilire la capacità di intendere e di volere dell'indagato adesso e al momento del fatto? Naturalmente è un diritto del collegio difensivo ed è corretta la mossa del collegio difensivo. Noi naturalmente abbiamo intenzione di partecipare alle operazioni peritali appunto per verificare che queste vengano fatte nella maniera prescritta dal codice e che appunto sia certi se l'indagato in quel momento capiva quello che stava facendo ed era determinato a fare quello che aveva compreso di voler fare. Questo noi non lo sappiamo ancora, ce lo diranno poi gli esperti e vedremo quello che accadrà, insomma. Concludiamo chiedendole qualcosa sulle condizioni di salute della signora sappiamo che ha lasciato poco dopo l'intervento chirurgico all'ospedale di Ribera dei bambini. Guardi, io le posso solo confermare quello che i medici, il senatore, hanno detto aggiungendo soltanto che c'è un conforto in più per i bambini che è la presenza della mamma, che ripeto è una donna forte, intelligente e che è determinata che venga accertata la verità per lei e per i minori. Per quanto riguarda la reazione della comunità ciancianese, lei anche da ciancianese cosa può dire? Guardi, dopo un momento di sconforto, di shock della comunità è chiaro che si è avvicinata, si è stretta attorno alla famiglia Trusiuk che vive a cianciana da vent'anni e che è una famiglia stimata di lavoratori, di persone serie, di persone corrette. Quindi la comunità non può che stringersi attorno alla signora Trusiuk e attendere prudentemente e intelligentemente l'esito del processo.